Il panorama fuori Dai pure! Siete riusciti a parlare di tutti i due altri Sì sì, è fortunato E perchè parlavo penso con il vostro capo Con Roberto E mi ha detto Gli ho detto Giugno, Luglio, Agosto, Settembre Tutti i giorni Dopo vogliamo organizzarci Anche d'estate quindi Quattro mesi Sì 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 Adesso andiamo qua Sì, l'inverno Non c'è mai una data fissa Ma normalmente noi facciamo Dall'ultimo 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 No, no Facciamo il primo Maggio Sì Quindi L'ultimo È stato Una persona che senti lì L'ultimo Si Sì 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 E C'è tanta gente Che fa il gioco Non sono piedi E da Paolo Svizzera Si 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 43 Si 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.